segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te è meglio che lo dica adesso perché tra vent'anni è molto improbabile che ci sarò ma effettivamente in parte l'ho accennato prima era come persona perché poi io l'ho conosciuto non come papa nel senso che si vestiva di bianco ma ormai era emerito e comunque in ogni caso per me non era un papa nel senso che non sono un credente ma la persona come d'altra parte anche Massimo Franco può raccontare e l'ha fatto benissimo nel suo libro il monastero che mi è molto piaciuto cioè una persona veramente gentile con i modi garbati fragile anche da un punto di vista fisico si vedeva quasi che se uno l'avesse toccato probabilmente tra l'altro io l'ho toccato perché un paio di volte quando si doveva muovere dopo la fine dell'udienza una volta siamo andati a fare le firme ai libri dall'altra parte eccetera io gli davo il braccio la prima volta poiché l'ho visto ancora non aveva la canna che poi ha usato in seguito e poi il girel eccetera e gli ho detto mi dia il braccio anche perché io da militare avevo fatto l'accompagnatore di un cieco quindi ero abituato a questo ho visto che lui mi ha guardato con un certo modo come a dire ma insomma forse non è una cosa così rituale poi ha capito però che forse per la stabilità era meglio no infatti mi ha preso il braccio e ho delle foto appunto a braccetto con lui che è una cosa quasi appunto veramente da nonno come diceva Papa Francesco più che da Papa ma il fatto che lei le conservi quelle foto qualcosa ci dice o dei freddi? vabbè le foto si fanno per conservare perché vabbè no forse per i giornalisti si fanno per pubblicare però per noi in effetti sono dei ricordi e invece poi quando si parlava lì ovviamente usciva fuori subito la sua enorme cultura anche se poi era molto interessante vedere che era una cultura sterminata però in campi molto diversi per esempio da quelli che potevano essere i miei anche nei punti che avrebbero potuto essere di contatto ad esempio un giorno gli ho chiesto se aveva letto Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann che è un romanziere tedesco l'argomento ovviamente religioso e lui mi aveva detto no non l'ho mai letto è troppo lungo non so se posso raccontare un aneddoto perché è abbastanza strano no? fu lui che in quel momento mi disse però sempre parlando di Ian Asman che ho citato prima dice Asman appena fatto una recensione diciamo così un articolo sul libro successivo di Thomas Mann che era una continuazione della storia di Giuseppe e dei suoi fratelli ed era in realtà la storia di Mosè e lui mi ha detto è strano perché Asman dice l'ho letto e Thomas Mann presenta la figura di Mosè in una maniera un condottiero no? dice era quasi un proto nazista così disse no letteralmente e io ho detto mamma mia detto da un papa no? sono andato a casa no? e ho detto chissà cosa avrebbe pensato Hitler di Mosè e oggi si trova in rete tra l'altro tutto c'è un libro di conversazioni di Hitler con un poeta tedesco in cui parlano di questo argomento e Hitler pensava invece che Mosè fosse come Lenin una cosa interessante perché poi alla fine si capisce e questo porta anche sull'aspetto politico che in fondo tre condottieri come quelli che sono stati citati cioè Mosè da una parte Lenin dall'altra e poi Hitler dall'altra che stavano costruendo la loro nazione diciamo che è stato più lungimirante Mosè mi fate capire in sede storica di profondità storica mi pare effettivamente l'unione sovietica è durata solo 70 anni esatto il terzo Reich ancora meno e invece lo stato ebraico è quello che ne è conseguito quello che conta mentre vediamo le immagini deve ovviamente grazie a tutti